Cercate un'utilitaria che abbia delle caratteristiche ben precise, ovvero affidabilità, facilità nell'utilizzo ma soprattutto un prezzo estremamente concorrenziale e addirittura l'alimentazione a GPL Bene, ecco che arriva nuova Hyundai i10 2024 La scopriamo in questo test drive, ma prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube, azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti La protagonista oggi è lei, nuova Hyundai i10 in allestimento N-Line La nuova Hyundai i10 2024 cambia, ma solamente in pochi dettagli infatti la matita di Davide Varenna è stata assolutamente lungimirante con un design fresco, giovane, ma soprattutto molto sportivo Proiettori a goccia che però hanno, sì, la firma luminosa a LED ma la lente è halogena e questo potremo annoverarla tra i piccoli difetti infatti non è disponibile neanche a pagamento la versione full LED La griglia è molto ampia e ha un tema a triangoli che si ripete all'infinito dove nella versione N-Line sportiva abbiamo tre gemme rosse Le luci diurne sono rappresentate da queste tre barre all'illuminazione a LED A un lato della griglia troviamo anche la scritta N-Line Molto interessante è anche la parte inferiore dello scudo paraurti con un grande splitter prominente e una fascia rossa che sta proprio a rappresentare la sua anima racing Il cofano è molto corto con due grandi nervature che invitano al nuovo logo Hyundai La vista laterale è molto armoniosa, molto compatta Il cofano, come dicevo, è particolarmente corto allestimento N-Line che si riconosce anche per i cerchi in lega spazzolati da 16 pollici che diventano optional sulle versioni normali N-Line scritto anche sul parafango anteriore scritta I10 sul montante C invece tinta di rosso Il padiglione è alto e la finestratura molto generosa questo ovviamente per regalare maggior visibilità all'interno Molto bello questo montante C dove è stato creato un elemento che si raccorda tra il finestrino posteriore e lo spoiler con la scritta I10 appunto come vi ho detto prima e crea una sorta di X che si valorizza soprattutto se utilizzate le tinte chiare di carrozzeria Le misure sono molto compatte con una lunghezza di 368 cm, l'altezza di 148 cm, la larghezza di 168 cm e il passo di 243 cm La massa è solamente di 1099 kg Tra le novità dell'edizione 2024 troviamo la nuova firma luminosa dei gruppi ottici posteriori che non cambiano effettivamente nella forma generale ma diventano particolarmente armoniosi Abbiamo un paraurti molto sporgente un estrattore sportivo con una striscia rossa e due veri scarichi cosa estremamente rara per un motore da un litro Il lunotto non è tanto inclinato, questo per agevolare anche la capacità del bagagliaio così si possono caricare maggiori volumi in altezza Il portellone ha sblocco automatico e manuale ma ovviamente non crea problemi perché è molto leggero Qua abbiamo la telecamera che poi vedremo nella descrizione degli interni La bocca di accesso del baule non è molto ampia in più abbiamo un profondo scalino che potrebbe creare qualche difficoltà quando si vuole caricare oppure estrarre un collo pesante C'è un piccolo doppio fondo attrezzato e il piano è rivestito in moquette Peccato che i fianchi siano rigidi e tra l'altro non abbiamo neanche una presa a 12 volte ma un punto luce La volumetria parte da 252 litri e può arrivare fino a 1050 litri abbattendo gli schienali suddivisi in 40 e 60 L'abitabilità posteriore è buona per due adulti anche se la i10 è omologata per 5 ma un eventuale passeggero centrale è meglio che sia una persona di piccola taglia oppure un bambino Le sedute sono confortevoli e ben sagomate c'è una presa usb e tasche nei pannelli porta ma non nel retro dei sedili anteriori Il design dell'abitacolo della nuova Hyundai i10 è molto curato sotto ogni aspetto anche se le plastiche effettivamente sono tutte rigide ma ben assemblate e robuste Partiamo dai pannelli porta che sono realizzati con estrema cura con una grande tasca per portare piccoli oggetti e anche una bottiglia da un litro e mezzo Qua in effetti si sente la mancanza di un poggiagomiti morbido infatti tutto il pannello è realizzato in plastiche rigide Molto comodi e ergonomici i sedili che hanno una forma sportiva sono rivestiti in panno tecnico di ottima qualità con la parte centrale in rosso e a scritta N incisa sullo schienale Tutte le regolazioni sono manuali ma un aspetto che non mi ha convinto del tutto è il fatto che quando alzate il sedile si alza molto la parte davanti e quella dietro rimane fissa dunque col sedile alzato avete una posizione molto sdraiata Il volante è regolabile solamente in altezza e non in profondità La plancia ha un design come dicevo molto accattivante e lineare con la parte lato passeggero con un grande cassetto non rivestito ed in più abbiamo un porta oggetti davvero molto comodo Le bocchette dell'aria sono circondate da elementi rossi proprio perché siamo a bordo di una N line e mi piace molto anche la finitura davanti al passeggero che si ripete anche nei pannelli porta con un pattern molto sportivo Il tunnel centrale è basso, ci sono due porta bicchieri e anche un alloggiamento per poter ospitare un tablet c'è una presa a 12 volt usufruibile anche da parte dei sedili posteriori e il freno di stazionamento è manuale La leva del cambio ha un posizionamento rialzato questo agevola molto durante la guida e di più abbiamo una vasca che può contenere un cellulare ma non abbiamo la ricarica induzione Ci sono due presi USB una di formato A per condividere anche i contenuti dello smartphone con il sistema di infotime e una di formato C solamente per ricaricare lo smartphone Come sempre apprezzabili i comandi fisici del clima in questo caso manuale Il volante ha un diametro sportivo, è realizzato davvero molto bene con rivestimento in pelle, cuciture rosse molto comodi e anche i pulsanti facili e intuitivi da utilizzare Davanti al guidatore abbiamo un cluster che sembra totalmente digitale ma invece è digitale solamente nella parte centrale ma ovviamente non abbiamo lancette e quando è spento è totalmente black Il sistema di connettività è da 8 pollici touch ed ha la possibilità di condividere Apple CarPlay e Android Auto ma solamente via cavo Abbiamo a disposizione mappe e navigatore e anche numerose schermate organizzate in stile widget Molto bene anche la qualità della retrocamera ma solamente posteriore La nuova Hyundai i10 è un'auto che vorrei definire estremamente semplice, facile e confortevole Quando dico semplice mi riferisco al fatto che qua non trovate tutti quei dispositivi di ultima generazione elettronici che spesso nella vita di tutti i giorni non vengono sfruttati e utilizzati dunque è un'auto che si adatta alla guida di chiunque anche di chi è alle prime armi anche se questo modello effettivamente vi fa divertire perché ha delle prestazioni nonostante il piccolo motore che la rendono vivace in qualsiasi condizione ma di questo parleremo a breve ma anche per quanto riguarda l'aspetto Adas ci concentreremo più avanti Hyundai i10 dunque è una vettura estremamente confortevole con un conforto acustico notevole solamente il piccolo motore a tre cilindri se chiedete un po' di prestazioni in più fa sentire la sua voce ma questo è sintomatico per una vettura di questa categoria il comfort si misura anche attraverso le sospensioni e l'assorbimento del fondo stradale in questo caso gli ingegneri di Hyundai hanno lavorato davvero molto bene abbiamo un McPherson anteriore un ponte torcente nel posteriore ma le sospensioni tarate in maniera turistica assorbono perfettamente qualsiasi asperità del terreno che siano tombini, pavè, dossi e anche se volete magari un po' esagerare una strada ricca di curve sempre nel rispetto dei limiti la nostra Hyundai i10 rimane sempre molto incollata al terreno lo sterzo non è male è estremamente leggero il carico nel traffico cittadino dunque nelle manovre, nei parcheggi non avrete assolutamente nessuna difficoltà la precisione è un'altra cosa però devo dire che si difende abbastanza bene il rollio ovviamente emerge come del resto emerge il beccheggio il caricamento in curva ma nulla che non si possa controllare con la massima facilità l'impianto frenante, grande sorpresa abbiamo i dischi anche nelle ruote posteriori dunque una modularità eccellente spazio d'arresto estremamente contenuti del resto parliamo di una vettura che pesa poco più di 1000 kg dunque si ferma in pochissimo spazio a questo ovviamente aggiunge tantissima sicurezza durante la guida parliamo finalmente del piccolo motore a tre cilindri da un litro in grado di fornire 90 cavalli di potenza e 172 newton per metro di coppia e si accompagna bene anche grazie al cambio manuale che abbiamo nel nostro esemplare è un manuale a 5 marce con innesti secchi molto 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 precisi è una rapportatura che è abbastanza corretta in qualsiasi condizione con una prima non molto lunga dunque ci guadagna anche il risparmio di carburante e adesso arriviamo al piatto forte quanto consuma questa Hyundai i10 con il motore da un litro? vi voglio leggere il dato che compare nel computer di bordo 5,5 litri per 100 km è davvero una macinatrice di chilometri a costo quasi zero ma anche le prestazioni non sono male pensate che abbiamo una velocità massima di 175 km all'ora è uno 0-100 in 11 secondi che per una vettura di questa categoria direi che non è per niente male certo ci sono degli aspetti e dei nei che secondo me andrebbero assolutamente rivisti e migliorati il fatto che non abbiamo a disposizione il full led davanti è una cosa che francamente non mi piace fare alogeni principali lo ritengo estremamente antiquato per un'auto di questa categoria e di questa generazione inoltre il volante è regolabile solamente in altezza e non in profondità questo è un altro neo soprattutto per persone che hanno necessità di regolare il volante in profondità per questione di altezza o di abitudine di guida quello che sentite invece in sottofondo sono i segnali acustici che come su tutte le vetture coreane spesso sono fin troppo invasivi difficili da individuare o da cancellare nel sistema di connettività dove abbiamo tutte le funzioni ed effettivamente possono diventare molto molto fastidiosi nella lunga percorrenza un altro aspetto a cui vorrei porre un po' di attenzione è il fatto che non abbiamo una guida autonoma di livello 2 ma abbiamo a disposizione alcuni ADAS che tutto sommato arricchiscono la sicurezza come ad esempio la frenata automatica di emergenza il lettore cartelli stradali il cruise control non adattivo purtroppo manca il black spot però abbiamo il mantenimento di corsia che si appoggia sulle linee devo dire però che in alcuni casi diventa fin troppo irruento diciamo nel suo applicare la norma di lasciarti sempre al centro della carreggiata perché ovviamente fa rimbalzare la macchina sulle linee in conclusione devo ammettere che questa Hyundai i10 2024 si colloca quasi al top della proposta delle segmento A generaliste non solo per la ricchezza delle finiture, degli arredi, il design, il piacere di guida e altri aspetti ma anche per la dotazione di accessori infatti abbiamo degli accessori che difficilmente si trovano su vetture di questa categoria un'auto che si presta alla perfezione nell'utilizzo cittadino ma anche se volete fare delle gite fuori porta non si tira indietro sia per quanto riguarda il comfort di guida l'abitabilità ma soprattutto il piacere di guida voi cosa ne pensate? scrivetelo qua sotto nei commenti la nuova Hyundai i10 2024 è disponibile in tre allestimenti Connectic Line Prime oppure la sportiva N-Line protagonista della nostra prova un'unica motorizzazione che potete scegliere con cambio manuale a 5 rapporti automatico oppure alimentazione a GPL per un esemplare come il nostro bisogna staccare un assegno da 19.900 euro optional esclusi ma se volete conoscere nel dettaglio potete andare sul nostro sito www.shokanews.it dove troverete il configuratore e l'articolo correlato ci sono i nostri profili social Instagram, Facebook e TikTok se non l'avete ancora fatto vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale di YouTube e a suonare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti se il video vi è piaciuto e la recensione vi è interessato lasciate un like e con questo è davvero tutto, alla prossima! Grazie!